E c'è questo nuovissimo video di Block Mango Allora ragazzi io sono Kendal e bentornati in questo nuovissimo video Allora oggi ragazzi andiamo... come vi ho chiamato? Ragazzi, ragazzi, ragazzi Oggi andremo a fare una reaction al mio vecchio video Ovvero questo Questo qua Il ritorno a dei suoni divertenti Ovvero i meme Mamma mia da quanto Non me lo ricordavo più Iniziamo a vederlo, dai Ah no, qua l'avevo... Ok, qua saltavo Anzi, fammi sistemare la qualità un attimo Perfetto Qui ancora quando editavo e facevo i video... Che è successo? Vediamolo un po' sto Funny Moments Guarda, ragazzi, sembrava un Funny Moments Veramente Ok, andavo avanti Tra l'altro ancora non c'era il secondo inventario No, vabbè Ah, questo me lo ricordavo Questo me lo ricordavo Ma non laggavo neanche Beh Lì avevo il gioco in italiano Cosa ho detto? Cosa ho fatto? Ah, questo suono bè Guardalo questo Stavo fermo Guardatelo Guardatelo Questo pure L'ho ucciso Adesso È la spada con flame Ecco perché Ma ro' quanto era gigante la spada prima Tutti i vecchi ricordi È vero Lì dove compravo Ok Andavo lì? Poi? Ah, lo volevo buttare giù È andato giù lui da solo Ecco È andato giù Era intelligente Era intelligente Quando ancora non era stato acchierato Ma guardate Ecco 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 l'ho messo di nuovo prima Al passato No ragazzi Qua è divertentissimo È divertentissimo Io l'ho visto full È divertentissimo Abbassiamo Lì quando mi scatenavo E li facevo fuori tutti E ho messo il suono Che si scatenava E quello L'amassavo tutti Guardati Non ero troppo forza Al passato Nessuno mi poteva Sconfiggere al passato Guardateli Non riesco a banneggiarmi E qua è divertentissimo Ragazzi Di nuovo Qui cercavo la forbice Ecco Quello mi ha tirato su Con la canna da pesca E poi è andato E poi è andato giù È andato giù Alziamo un pochettino Mi sa che non doveva Ragazzi 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 Non erano Nobissimi contro di me Tiravo 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 La flame bomb Di nuovo lui In due Di nuovo C'è Cercavano di uccidermi In tutti i modi Ma non ce la facevano Incredibile Morto Qua ancora Mettevo le canzoni Sui funny moments Mi sa che Li devo rifare I funny moments Ecco Ragazzi Qua è bellissimo Guardate Arrivano due pro Contro di me Li faccio fuori Tutte e due Guardate Mi mangio Una mela d'oro Faccio fuori Questa qua Era indiamantato Addirittura Quello Poi mi toccava Scappare Mangiare due mele d'oro Ritornare Contro di lui E morire E fallo fuori E fallo fuori Mamma mia Avevo su Guardate ragazzi Guardate Questo mi ha chiamato Hacker Ha passato Questo mi ha chiamato Hacker Ragazzi vi giuro Io non sono un hacker E lui credeva Era un hacker Ma invece no LOL Mi ha detto hacker Ed è morto Con la fiamma E poi lì ho scritto I ricordi Mamma mia Non ero stato hackerato Poi? Ah giusto Andavo di E' vero Ero senza Letto Poi che ho fatto? Volevo frecciarla Mi sa che non volevo Sfrecciarla Vuole ammazzare Questo qua Nabbo Poi dopo che L'ho ammazzato Dopo che ho ammazzato Quel Nabbo Poi Vediamo un po' Perché ragazzi In questo video Non mi ricordo Ecco Ecco qua Mettevo Da quando mi ha lanciato Le TNT Mi ha fatto rimanere A due cuori Pensavo di uccidermi Ma non è vero E' vero Lì Quando Dal paracaduto Si poteva A mangiare Ancora Mela d'oro Dopo Ecco Ho preso Una TNT E l'ho fatta fuori Così Se la merita Ecco Lì Mi compravo Un'altra Mela d'oro Lì Mi rigenerò Mi Rigenerò Da 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 quel Nabbo Poi C'è Questo Minuto Questo video Ha durato 8 minuti Con tutti Sì Moments Ecco Ho messo La canzone Di Can Davvero Guardate Ragazzi Ora Boom Boom Addio Addio Io avevo messo La musica bassa Per i funny moments Sì Morto Morto Giusto Poi che facevoli E cerco Cerco di ammazzarlo E vinto Tra l'altro No No Vabbè La mia vecchia La mia vecchia Cosa La mia vecchia La mia vecchia Ora c'è la nuova Ecco ragazzi È finito così Vediamo i commenti Best Best Video Video Kendall Bravo Kendall Il video era super Grazie Ma sei potente Ma Che no Anche a me Kendall Mi accetti l'amicizia Per favore Mi chiamo su Block Bang Go Non voglio Leggerle Il Il nome Che Che Ha scritto Non dico Bugie E sono Un bambino Di sette anni Ok Sì Sei Grande Grazie Al passato Si può Guarda Che Non è Che Mi Mi risposto C'è ragazzi 238 Visualizzazioni Così Tante Mamma Mia Vediamo Un po' No Quando Mi stanno Offendendo No No Oh mio dio YouTube Quasi mi hai consigliato Il mio primo video del canale Il mio primo video del canale Il mio primo video del canale No Cosa 400 visualizzazioni perché è epico sto combattimento Questo è un video che mi ha fatto Questo è un video ironico No Non lo voglio vedere Record un minuto di partita L'ho già visto No Nuno Non lo voglio vedere Tanto era il mio amico Con il mio fan JerixBG vero? Ecco come era L'account addirittura Avevo detto Guardate Ma guardate 134 episodi Di Bad War Street Mamma mia Ragazzi era un fenomeno Era un fenomeno Vabbè ragazzi Questo video termina qua Spero che questo video vi sia piaciuto A vedere il mio vecchio video Che era epico Quindi lasciate un super like Da me e da Kendall Dal mio video E da Kendall fan E noi ci vediamo Allo prossimo video Ciao Ciao Ciao